bella raga bentornati il vostro mister lollo qui sul football manager club ancora con football manager si proseguiamo football manager 2019 poi piano piano entreremo anche nel nuovo football manager 2020 appena uscirà ovviamente andremo direttamente sul nuovo gioco però in tanto continuiamo la bellissima carriera con la mia cremo con la cremonese grigio rossi stanno facendo qualcosa di speciale quarta stagione la seconda in serie a la prima in champions league amici continuiamo avete visto l'ultima le ultime sfide come sono andate insomma purtroppo bene le amiche voli di prestigio ma in casa con l'atalanta quel derby regionale l'abbiamo perso per 1 a 0 ve lo ricordo dominando però quella gara ora ci sono tre partite che dovremo affrontare e oltre le tre partite che vedremo adesso la trasferta a palermo in casa col cagliari in casa col pescara ci sono anche le nazionali vedremo anche insieme il sorteggio di champions league attesissimo per i tifosi grigio rossi lo vedremo dopo appunto questa partita col palermo il 26 agosto ci sarà il sorteggio lo vediamo insieme ma ora tuffiamoci alla favorita di palermo renzo barbera per ottenere i primi tre punti di questo nostro secondo campionato in serie a forza cremo forza grigio rossi io ci credo credeteci anche voi daje anteprima di palermo cremonese come sempre ce la vediamo leggermente favoriti secondo i pronostici di unibet 250 condizione recente troppo presto per dirlo per entrambi gli incontri precedenti quali sono stati beh col palermo ci abbiamo già giocato due pareggi una vittoria per noi una vittoria per loro quindi molto equilibrata questa sfida col palermo rapporto su di loro dice l'allenatore roberto donadoni punto di forza le uscite portiere della squadra eccellano nell'uscire dalla porta con il giusto tempismo i potenziali punti deboli condizione del miglior giocatore la valutazione di 650 ottenuta da stambuli lo piazza solo in 185esima posizione tra i giocatori del campionato ma appena iniziato il campionato questa è la seconda giornata amici miei informazioni partita ore 18 orenzo barbera di palermo 17.600 biglietti venduti su una capacità di 36.300 insomma non molti la metà circa insomma quindi non è molto pieno nello stadio tenendo il gioco in ottime condizioni 32 gradi fa caldissimo a palermo l'arbitro è daniela orsato un incontro quest'anno arbitrato da lui una munizione sola andiamo subito alla formazione immediatamente ve la faccio vedere 4-3-3 il solito equilibrato recuperano quasi tutti i giocatori tranne petro alvaro che tornerà la prossima mancano solo due giorni mares recupera ma va in panchina perché guardate la sua forma è purtroppo al 69 per cento lo faremo giocare magari in corso d'opera ho scelto questa gara questa formazione ragazzi baciucco in porta ex di turno l'avevo preso da palermo ve lo ricordo questo region fortissimo ragazzo prodigio caderà back terzino destro bettella amione amione torna lì in difesa da silva come fluidificante di sinistra turam regista retrato davanti a difesa palaverse ed emers le due mezzali molto giovane come sempre il centrocampo battistao quindi attaccante esterno a testa moisekine speriamo si svegli sulla sinistra pinamonti unica punta ora formazione rosa nero del palermo palermo a specchio come noi 4 3 3 col mediano con brignoli in porta rispoli pirrello ceppitelli il nostro ex e felicioli in difesa stambuli mediano davanti a difesa con gnaurè fiordilino a centrocampo nistoroschi trecortista destro balog trecortista sinistro ferreira unica punta molto interessante sto palermo spogliatoio parla la squadra energico io direi andate in campo e cercate di impressionarmi motivato emersa speriamo bene difesa energico credo voi andate fuori e fate vedere il vostro colore vabbè questo lo sapete lo dico sempre per tutti quanti i ruoli anche in attacco stessa identica cosa bene sono felici sono contento do io le impostazioni entriamo in campo e tentiamo di far volare questa questi grigio rossi ragazzi e ottenere soprattutto la prima vittoria in campionato amione teniamo pala dalla difesa partiamo con xiane emers emers tocco per moise kin va via moise va via moise il destro gran parada dei brignoli balog fermato fallo di palaverza che era già munito rischia spulso palaverza che sfortuna iniziamo molto male ragazzi io direi di fare un cambio quindi voglio mettere praet al posto di turam che non mi voglio difendere voglio togliere il mediano e metto dennis praet praet lo mettiamo al centro campo e lo mettiamo sicuramente come regista arretrato ragazzi daje baciucco dalla prima porta allarga per da silva attacchiamo ragazzi dai moise kin tocco per dennis praet regista avanzato l'ho messo alla fine allarga per leo battista anticipato da rispoli troppo lenta stazione va rispoli va via rispoli pallone per ferreira e c'è il gol iniziamo malissimo sto campionato vantaggio palermo 24 minuti positiva non posso mettere ma intanto ragazzi va a vedere il varra non ci avevo fatto caso forse per la posizione di fuori gioco vediamo sta guardando le riprese rispoli rispoli ci prova pallone che arriva forse fuori gioco di ferreira ragazzi vediamo se ce l'ha nulla non lo so è forse no non lo so proprio rivediamo vediamo tutto quanto nel dettaglio e purtroppo è regolare la posizione è regolare ancora angolo praet per noi calcio di rigore rispoli l'arbitro sta fischiando e questo è calcio di rigore sta parlando col varra ma è netto è netto e infatti lo è dai ragazzi crediamoci calcio di rigore mezz'ora di gioco va andrea pinamonti va il pina e segna pareggio cremo pareggio cremo prima rete stagione 1 a 1 finisce il primo tempo 1 a 1 bel primo tempo divertente una buona cremonese anche se in 10 uomini se la sta giocando molto bene purtroppo come vedete ammione ammunito e palaverza doppia munizione spulso gol per loro di ferreira per noi pinamonti sui rigori 9 a 6 tiri per noi 4 a 3 nello specchio della porta 57% possesso palla siamo migliori di loro in questo primo tempo speriamo nel secondo parla la squadra è energico diciamo è l'ora di mettercela tutta stasera meritiamo di vincere l'incontro quindi andiamo in campo e dimostriamolo ascoltano attentamente non sono fomentati quindi energico difesa penso possiate migliorare credo in voi bene centro campo la stessa identica cosa poco felici poco felici adesso andiamo anche a vedere un po i voti vediamo un 650 del nostro moisekin che è 650 anche emmerz vabbè vediamo cosa succede al secondo tempo forza crediamoci angolo per noi dennis pratt 51esimo secondo palo va di testa chi è pinamonti per pallone fermato in calcio d'angolo angolo cremo va dennis pratt a batterlo va il regista in mezzo balog leo batistau ancora per pratt non è fuori gioco in mezzo pinamonti di testa fuori prima sostituzione ragazzi escono i due che non mi sono piaciuti ovvero emmerz a centrocampo e moisekin soprattutto e voglio mettere al suo posto quindi riad mares spostando batistau a sinistra istambuli proviamo il pressing attenti gnaurè la gioca molto bene a sinistra per felicioli attenti al cross bene qui no caderebbe che si fa soffiare il pallone felicioli poi da silva di testa qualche modo tulissi appena entrato tulissi ma cosa fa baciucco ma cosa fa prima delle stagioni è andato a farfalle no tantesimo minuto 2-1 palermo mettiamo positiva ragazzi per forza guardate che gol ci hanno fatto da silva qui sbaglia colpo di testa che è palaversa non lo so gran sinistro i tulissi baciucco dov'è 93esimo battono loro tulissi in mezzo via la palla gnaurè assurdo ragazzi assurdo stiamo perdendo ormai 93esimo e finisce sconfitta palermo 2-1 cosa sta succedendo cremonese mia cosa sta succedendo non va bene così non va bene andiamo a vedere le statistiche ma tre partite che dovevamo fare 9 punti cavolo e già perdiamo la prima mannaggia comunque 14 a 11 i tidi 7 a 5 nello specchio della porta 54% possesso palla avevamo giocato anche abbastanza bene 80% passaggi completati 82 contrasti non bene colpi di testa ok 56% migliore in campo quello che è entrato tiziano tulissi in assoluto 8.1 col gol bene pure rispoli con l'assist bene bernioni il loro portiere bene facundo ferrere col gol noi bene pinamonti ma il resto così così ragazzi badistau si è salvato praet e da silva si sono salvati bene baciucco ma ha fatto un errore che bene 6.9 vabbè su quel sinistro male purtroppo moise king male moise king ragazzi 6 4 comunque eravamo in 10 vabbè ma non voglio attenuanti non mi interessa adesso andiamo alla prima al sorteggio di champions league e poi la prossima gara di campionato dagli gremonese forza alza la testa e combatti riprendiamoci velocemente dalla delusione della sconfitta contro il palermo per 2 a 1 ancora non ci credo ragazzi e tuffiamoci nel mondo dei grandi uefa champions league per la nostra gremonese oggi ci vediamo insieme il sorteggio dei vari gruppi e facciamo il sorteggio automatico vi faccio vedere la prima fascia c'è real madrid bayern juventus manchester city porto paris saint germain roma e milan insomma potremmo pescare una fra real madrid paris saint germain port bayern monaco io e manchester city io spero il porto sinceramente seconda fascia barcelona atletico madrid manchester arsenal sevilla tottenham shaktar e lione qui speriamo lo shaktar o lione che vi devo dire terza fascia ajax monaco besiktas bayern everkusen benfica inter shock e krasnodar speriamo nel krasnodar anche il benfica può andare bene e quarta fascia ci siamo noi ragazzi appunto come ultimi guardate punteggio zero non abbiamo punteggio europeo ovviamente ci tuffiamo per la prima volta adesso in europa sorteggio automatico quindi andiamo vediamo un po cosa succede gruppo a manchester city gruppo b real madrid gruppo c il porto gruppo di la ruma gruppo e il bayern gruppo f il milan gruppo g la juventus gruppo h il paris saint germain quindi non possiamo capitare con il gruppo di gruppo g gruppo f sicuramente quindi vediamo manchester city lione real madrid tottenham porto barcelona roma arsenal bayern atletico madrid milan manchester united juventus si via paris saint germain shaktar andiamo avanti qui il bayern everkusen nel gruppo a ajax gruppo b krasnodar gruppo c benfica gruppo di gruppo c non è male gruppo e monaco gruppo f besiktas gruppo g lo shak 04 gruppo h l'interra poi bruges gruppo a cremonese gruppo b ragazzi tostissima gruppo c young boys gruppo di rangers gruppo e standard leggi mitiland gruppo f celtic gruppo g e ragazzi siamo nel gruppo b come detto con real madrid tottenham ajax insomma sarà quasi impossibile ce la giocheremo non lo so perché è veramente improponibile questo girone difficilissimo avrebbe preferito sicuramente il gruppo c come vedete c'era barcelona il porto il krasnodar peccato va bene adesso tuffiamoci a subito in campionato però mondo nostro dobbiamo ottenere tre punti contro il cagliari daje anteprima di cremo cagliari ragazzi pronostici bet click leggermente favoriti eravamo favoriti in tutte le partite comunque condizione recente troppo presto per dirlo pessima la loro arrivano da tre sconfitte loro sono ultimi noi penultimi insomma zero punti la roma male che ha un punto solo come il genoa in questa è la classifica negli incontri precedenti abbiamo vinto noi due volte abbiamo pareggiato e hanno vinto loro una il loro allenatore cristian brocchi punto di forza autorità in aria i portieri della squadra comandano l'area con autorevolezza i potenziali punti deboli gol subiti 9 dei 21 assi sconcessi nelle ultime 19 gare sono arrivati da cross bisogna stare attenti a cross allora inizio le 20 e 30 giovanizzini cremona taglie domenica 29 agosto 16.800 biglietti su una capacità di 20.000 tenendo i giochi in ottime condizioni 24 gradi finalmente si può giocare bene l'arbitro e marco guida due partite dirette in questa stagione nessuna espulsione 5 ammunizioni formazione amici miei vi faccio vedere si sono infortunati dei giocatori allora baciucco purtroppo fuori per un paio di settimane palaversa lo sapete squalificato e geda silva leggermente infortunato tornerà tra tre giorni il mio terzino sinistro per cui ho dovuto fare alcune scelte anche forzate con radunovic in porta cadera becca destra alvaro torna lui anche se ha una forma al 57 per cento non mi interessa difensore centrale con amione a sinistra masuaku turam davanti alla difesa con praet ed emersa centrocampo un po' di qualità lì in mezzo al campo mares finalmente lui attaccante esterno a destra kin a sinistra pinamonti unica punta speriamo bene iniziamo equilibrata per in caso metterò positiva o d'offensiva ora formazione rosso blu del cagliari 4-3-3 col mediano come il nostro con cragno in porta mercato romagna bonifazzi castagna in difesa cataldi mediano davanti alla difesa con brada ricce pessina centrocampo l'ex di turno pessina il nostro pessina ve lo ricordate l'anno scorso ricci trequartista destro salcedo trequartista sinistro pavoletti unica punta caglieri insidioso bisogna stare molto attenti per la squadra e energico siamo i favoriti andate in capo e fate cantare i tifosi ascoltate attentamente senza motivazioni però particolari così non va bene energico credo in voi andate fuori e fate vedere il vostro valore ok qualcuno acquisisce fiducia centrocampo la stessa identica cosa bene attacco uguale ok qualcuno si è motivato di più per fortuna entriamo in campo ragazzi dobbiamo ottenere ovviamente i primi tre punti arriviamo a due sconfitte consecutive che non mi piacciono per niente farlo tra le per noi masuaku molto lungo verso il pin anticipato per turam di testa per xian emers la botta grandissimo golla il belga va a segnare il vantaggio della cremonese dopo due minuti e mezzo prima netta stagione tiro da fuori stupendo di xian emers si fa vedere il belga come la scorsa stagione masuaku guardate il pinamonte anticipato qui di testa turam per emers il tiro a giro stupendo nell'angolino 1-0 kefren turam pepraet mares emers ancora lui il destro alto finisce il primo tempo ragazzi 1-0 per noi gol di emers al terzo l'avete visto molto bene le statistiche però 13-2 tiri 5-2 nel specchio della porta 57% possesso palla spogliatoio ovviamente gli diciamo la solita cosa energico non vi rilassate assolutamente sono più concentrati ma fomentiamoli energico penso possiate migliorare credo in voi centro campo la stessa identica cosa dai regà l'attacco uguale uguale bene sono tutti fomentati vedo però un 53% riad mares lo sostituisco subito ragazzi entra al suo posto leo badistau punizione per loro cataldi 62 minuti cataldi che gol vabbè iniziata male sta stagione ragazzi offensiva subito offensiva non è possibile danilo cataldi prima rete stagione al 62esimo hanno fatto solo questo il cagliari e ci ha segnato radunovic non arriva su questa punizione di cataldi sostituzioni guardate moisekin come mi sta deludendo lo inizio ad odiare moisekin guardate 650 non è possibile mettiamo per solo marco d'alessandro possiamo mettere e lo mettiamo sulla sinistra per forza o se no badistau sulla sinistra e marco d'alessandro a destra anzi facciamo così e poi ragazzi l'ultima dell'altra sostituzione che faccio poi l'ultima esce kaderabek ed entra al suo posto darmianna masuaku 69 minuti batte calcio le munizioni verso il centro e emersi il tiro al volo e c'è il gol di che pinamonti il pina il pina non è fuori gioco 2 a 1 rimettiamo equilibrata si si pina si pina masuaku bella punizione guardate pinamonti al volo imprendibile 2 a 1 farò la tralea di Matteo Darmiana la batte molto lunga c'è Pavoletti perché Frenturam lì davanti al centrocampo Praet Darmiana è bello il cross sul secondo palo anticipati emers emers la botta che gol che gol del belga ma che tiro ha fatto incredibile seconda rete di stagione doppietta per emers questo ragazzo ci crede è veramente un fenomeno xiane emers ditelo in giro è un fenomeno Praet 3 a 1 meritatissimo questo gol è il vantaggio di due reti emers guardate il tiro al volo di destro imprendibile 3 a 1 punizione per loro 84 minuti ciciretti in mezzo è solo salsedo salsedo c'è il gol il gol del 3 a 2 incredibile incredibile riguardiamola ciciretti salsedo da dietro prima una parata da uno che c'è solo ribattuta c'è lui 3 a 2 troppi gol subiamo 95esimo ormai dovrebbe essere finita ragazzi ho messo difensiva ma è finisce prima vittoria della cremo 3 a 2 col Cagliari fondamentale ragazzi fondamentale guardiamo le statistiche è meritata o no questa vittoria secondo me si 21 a 8 i tiri 8 a 7 nel secondo tempo hanno anche tirato di più loro bisogna essere sinceri 55% possesso palla 85% passaggi completati 90% contrasti 58 colpi di testa va bene Xianemersi mi era in campo in assoluto con una bella doppietta 8.8 bene anche Masuaku con l'assist 7.6 bene Turam con l'assist Pina Monti con il gol 7.3 bene Verarudunovic e forse prenderà il posto di Baciucco che non mi è piaciuto Darmiana è male così così come anche Caterabec lì sulla destra e male Moisechine 6.5 questo ragazzo non lo capisco lo devo fomentare loro benissimo Cataldi con quella punizione 8.3 bene anche Salsedo 7.2 con il gol comunque 3-2 i primi 3 punti per la nostra Cremo prima vittoria avanti così ora la prossima gara ragazzi fra 12 giorni dopo le soste delle nazionali dai anteprime di Cremonese Pescara ragazzi sono passati una quindicina di giorni ci sono state le nazionali come sempre qualche acciacco c'è stato perché dalle nazionali si riporta sempre qualche infortunato di poco conto per fortuna stavolta ma ci saranno adesso vediamo quella formazione BetClick secondo i pronostici loro siamo leggermente favoriti beh col Pescara ci sta gli incontri precedenti abbiamo pareggiato due volte giocando col Pescara quindi è molto equilibrata ok la condizione recente per entrambi rapporto sul Pescara Giuseppe Piloni l'allenatore punto di forza formazione usata ha portato un'impressionante media di 4 occasioni in 90 minuti giocati usando la formazione 4-1-4-1 col mediano larga nei ultimi due anni invece potenziali multiteboli condizione del miglior giocatore la valutazione di 6,63 ottenuta da Despodov lo piazza solo in 189esima posizione tra i giocatori del campionato insomma non hanno una buona media inizio di 15 Giovanni Zini Cremona 16.777 biglietti su un totale di 20.000 terreno in gioco in ottime condizioni 28 gradi sereno fa caldo Paolo Valeri è l'arbitro un incontro quest'anno arbitrato 4 ammunizioni abbastanza severo formazione come vi dicevo ragazzi ci sono qualche infortunato ma soprattutto a parte i infortunati tra 3 giorni martedì abbiamo 14 settembre l'esordio a Madrid contro l'El Madrid in Champions League per la nostra galonese quindi ho fatto un turnover quasi totale ragazzi quasi totale ve lo dico voglio mettere altri giocatori quelli acciaccati come vedete sono Riyad Mahrez che sta al 79% quindi lui si deve riposare non so nemmeno se riuscire a giocare con Real Madrid e poi vedo Baciucco che sta recuperando vabbè ritornerà domani comunque il portiere di riserva al momento Radunovic è lui il titolare 4-3-3 col mediano quindi ho scelto questa formazione equilibrata al momento Radunovic in porta con Darmian Bettella Alvaro Da Silva in difesa Kefrenturam davanti al difesa con Praet e Cassata in mezzo al campo D'Alessandro alla destra Battistau attaccante esterno a sinistra Petagna unica punta quindi non giocano Pimpinamonti non gioca Maresse non gioca Khin non gioca Emers e Palaversa insomma Amione nemmeno molti molti titolari Caderabek pure stanno fuori in panchina ora formazione Biancazzurra del Pescara Pescara con un 5-3-2 come vedete con Melinkovic Savic in porta Bani Perrotta Magnani 3 di difesa Zampano terzino a destra fluidificante ovviamente Murro a sinistra Brugman Basoer Frattesi 3 centrocampi in 6 centrali Klaus è lungo ex della Cremonese in serie B ci avevamo lungo ve lo ricordo nelle mie stagioni in avanti quindi Spogliatoio Pala la squadra è energico andate in campo rilassatevi giocate in maniera naturale il risultato verrà voglio che si rilassino ma niente da fare non si rilassano difesa è energico credo in voi fate vedere il vostro valore ok qualcuno è motivato stessa cosa al centro campo l'attacco uguale va bene così do io le impostazioni agli avversari e scendiamo in campo per ottenere altri tre punti importanti per riportarci un pochino su in classifica daje cremo calcio d'angolo per noi subito Praet in mezzo pallone che passa e Petagna segna il suo primo gol in stagione la prima gol con la Cremonese fulcro del gioco Andrea Petagna 1-0 col Pescara quinto minuto grandissima Cremo guardate che calcio d'angolo Petagna lì da solo segna l'1-0 daje Vania Milinkovic Savic 34esimo lancio molto lungo chi c'è bettella di testa appoggia per Pedro Alvaro 70 fa l'errore Alvaro lungo lungo gran parata finisce il primo tempo abbastanza buono 1-0 col Pescara gol di Petagna al quinto ve lo ricordo ma abbiamo momenti subivamo quel gol ragazzi avete visto con un errore di Alvaro i miei difensori devono essere più concentrati comunque stati stichetti con 9-4 per noi tiri 3-2 non specchio la porta benissimo il possesso come sempre 59% spogliatoio para la squadra ovviamente gli dico di non rilassarsi assolutamente sono motivati ma ancora di più energico penso possiate migliorare credo in voi bene così centro campo la stessa identica cosa attacco uguale uguale molto bene sono fomentati vediamo un po' 6-20 Marco D'Alessandro ragazzi sta giocando malissimo Marco D'Alessandro è l'unico che sta giocando veramente male tra un pochino se continuiamo così uscirà ragazzi dai l'ho battuto subito Cassata Leo Batistau fascia sinistra Batistau prova il cross sul secondo palo petagna di testa Milinkovic Savic fa il miracolo fa lo a tra leva Matteo Darmian passo per Praet ma sbaglia frattesi togli la palla attenzione Magnani vanno a fare pressing Milinkovic Savic lancio lungo c'è Alvaro stop al difensore la gioca per Kefrenturam con calma per Cassata tocco per Praet buona qui D'Alessandro sta giocando male il cross però stavolta bene sul secondo palo e Battistau fa segnare prima rete stagione Leo Battistau Marco D'Alessandro si è rifatto con questo cross stava giocando malissimo bene così Cassata Praet per D'Alessandro bello il cross sul secondo palo Battistau da solo grandestro guardate che botta imprendibile Primilink Savic 2-0 prime sostituzioni allora esce esce ragazzi Cassata che non mi è piaciuto ma anche Marco D'Alessandro non perché stia giocando malissimo perché si è rifatto quell'assist ma perché lo vede al 69% per cui entra entra Moise Kinn posto di Marco D'Alessandro e spostiamo ovviamente Battistau a destra e poi esce Cassata e mettiamo il nostro Xian Emers per rotta largo verso Murru attenzione a Murru prova il cross dall'altra parte per Zampano l'ha trovato libero ancora il cross in mezzo c'è Murru il sinistro in mezzo lungo e il gol dell'ex Samuel Longo 2-1 Pescara accorce la distanza attenzione gol di Longo rivediamolo incredibile questo gol rivediamo il tutto Zampano sulla destra prova il cross a sinistra ha lasciato solo Murru ha provato un tiro cross lungo stoppa in mezzo all'aria e fa un gran gol 2-1 78 minuti Matteo D'Armian però fallo ladrale molto lungo va Emers anticipato e qui c'è un calcio di rigore Brukman spinge Praet il VAR è stato consultato vediamo cosa decide calcio di rigore ragazzi inietto proprio deciso subito al volo chi va a battere chi va a battere Leo Batistau vediamo se fa la doppietta va Leo il brasiliano e gran golla 3-1 meritatissima Cremonese sta vincendo 3-1 col Pescara grande Leo doppietta per il brasiliano si è sbloccato daje così Radunovic 82 minuti adesso facciamo anche l'ultima sostituzione Kefren Turam tocco per Praet molto bene ragazzo Emers Emers per Praet possono allargare il gioco dall'altra parte Turam e allarga invece per Matteo D'Armian molto bene oggi le riserve D'Armian per Petagna bella pallone per Moisekin vediamo se si sblocca no sbaglia il gol del 3-4-1 ragazzi ultima sostituzione vorrei far uscire uno stanco Kefren Turam e al suo posto mettiamo chi mettiamo come mediano Antepalaversa 93 minuti calcio d'angolo per lo Simon lungo anticipato d'Alvaro stavolta Pepen per Simon cross via il pallone finisce qui ragazzi finisce qui la partita 94 minuti molto bene 16-9 tiri guardate subito le statistiche un 3-1 stupendo 7-4 nello specchio della porta molto molto bene i tiri 56% possesso palla 83% passaggi completati 85 contrasti 20 61 colpi di testa va bene così mi è piaciuta questa formazione benissimo Battistao migliore in campo in assoluto 8.9 con la doppietta il gol di Petagna e si è sbloccato anche lui molto molto bene con il gol bene Praet con l'assist bene Alvaro e Da Silva bene anche Bettela Radon insomma abbiamo giocato bene loro bene lungo il gol dell'ex e Murru con l'assist Cremonese che si fa valere meno male adesso chiudiamo il video come al solito vediamo i prossimi appuntamenti importantissimi state sempre lì mi raccomando taglie home page della mitica Cremonese e dall'home page vedete subito la prossima gara guardate che spettacolo Real Madrid Cremonese quando ci sarà mai nel futuro una partita del genere quindi onore a noi che abbiamo portato questa Cremonese in Champions League sono veramente emozionatissimo per le prossime gare che ci andremo ovviamente a vedere subito vi dico con appunto Real Madrid in trasferta al Santiago Bernabeu ovviamente partita impossibile poi abbiamo la trasferta dopo pochi giorni a Napoli e poi in casa col Torino ragazzi tre partite altre tre veramente toste difficilissime meno male che nelle ultime due ci siamo ripresi dopo quella sconfitta a Palermo abbiamo fatto due belle vittorie tre a due col Cagliari tre a uno col Pescara meno male abbiamo sei punti in quattro gare sono contento speriamo bene siamo là insomma in questo momento zona UEFA però devono giocare altre squadre per cui insomma saremo lì a metà classifica quasi sicuramente sono contento spero vi sia piaciuto questo video quindi vi chiedo come sempre l'unica cosa che chiedo like e condivisioni oltre ai like e condivisioni per questo andate anche a vedere e mettere qualche like nei video di PES ragazzi importantissimo perché sto facendo una bella carriera con l'Atalanta mi raccomando è stato un piacere come sempre ci vediamo la prossima volta con il vostro Mr. Lollo sul Football Manager Club con tutte le carriere di Football Manager e di PES e poi qualcosa anche in più arriverà a fine settembre forse qualcuno di voi ha già capito rimanete sempre sintonizzati è importantissimo mi raccomando alla prossima al vostro Lollo ciao ciao